Zinedine Zidane, secondo le ultime notizie, potrebbe diventare da fine al prossimo anno allenatore della Juventus. Il francese, di fatti, sta tastando il terreno, si dice, proprio in questi giorni. E questa debacle della Juventus all'andata dell'Atletico Madrid fa prendere più corpo a una notizia che potrebbe diventare realtà nel caso, nel ritorno, la Juventus dovesse uscire dalla Champions League. Cosa invece, al contrario, se facesse il miracolo la Juventus, la Lega potrebbe riprendere quota e rinviare questa notizia, insomma. Un saluto a tutti e iscrivetevi al canale!